ciao a tutti i gamers bentornati sul canale di giochi next gen ragazzi siamo nel vlog del mese di novembre e come potete vedere è la prima volta che vi porto sul canale un video vecchio stampo ossia senza la webcam ma soltanto con gameplay e commentary e il gameplay come potete notare è quello di clash royale che è un gioco che ho iniziato a fare da poco so che spopola su youtube da tantissimo tempo io ragazzi sinceramente l'ho iniziato da pochissimo e devo dirvi la verità mi è piaciuto questa che state vedendo è la prima partita che ho fatto nel multiplayer che ho subito deciso di registrare e vedere come andava quindi ragazzi questo è il mio esordio su clash royale prima di andare avanti volevo salutare miriam che è una ragazza che mi segue si segue tutti i miei video e quindi la volevo salutare quindi ciao miriam come avete potuto leggere dal titolo cosa sta succedendo a youtube ragazzi purtroppo devo dire purtroppo youtube sta cambiando e non in meglio ma in peggio infatti mandare video in feed diventa sempre più difficile potete ragazzi fare ciò che volete potete mettere video editati video non editati potete migliorare la qualità io un anno che ormai faccio video ho migliorato tantissimo la qualità dal primo video oggi eppure tutto questo non è bastato perché ormai youtube non funziona più come prima che basta mettere un video e va automaticamente in feed ormai youtube decide in maniera a sto punto mi viene o casuale o autonoma quale video mandare in feed e quale no perché qualsiasi cosa fate i video non vengono mandati più in feed e questo sta diventando un vero e proprio problema non tanto per un discorso relativo ai big money di tutti dei quali tutti parlano ma anche un discorso di soddisfazione personale nel vedere che il video viene visualizzato e non bisogna essere costretti a pagare o ad avere amici che hanno già dei canali più grossi per essere appunto visualizzati non mi sembra giusto qui ragazzi nel frattempo la partita sta andando sta volgendo verso il termine come vedete mancano 35 secondi e ho abbattuto una torre del mio avversario qui ho avuto qualche problemino di lag infatti vedete siamo arrivati a 30 secondi ora dalla fine e ha provato in tutti i modi il mio avversario a bloccarmi quindi leggero lag di nuovo ora ok si è ripreso ecco qui vedete io ho provato a sfondargli anche la seconda torre grazie al gigante mancano 5, 4, 3 vedete lui nel frattempo mi ha distrutto il gigante stavo arrivando le sue armate contro ma lo scontro è terminato e ragazzi ho esordito con una bellissima vittoria ecco qui una torre a 0 per me in arena 1 esordio più che positivo ora andremo a vedere invece ecco qui la seconda partita sempre in arena 1 ho aperto vari bauli che ho avuto in omaggio come deck vedete ho usato quello col gigante e ho messo i goblin ho messo la palla infuocata frecce e poi la strega e il cavaliere ho usato come come carte per il mio deck iniziale qui la partita è stata ve lo dico vi anticipo già è stata molto più combattuta tornando al discorso del canale nei prossimi mesi il canale come sviluppo rimarrà più o meno identico ossia il lunedì troverete PES McClub o PES diventa un mito il mercoledì troverete come sempre la carriera di FIFA 17 e il sabato purtroppo ho visto che Dragon Ball Xenoverse 2 non ha avuto granché di risposte non ho più portato Battlefield 1 perché comunque praticamente tutti hanno iniziato a portare i gameplay quindi avevo optato su Dragon Ball Xenoverse 2 sperando in un riscontro più positivo ma un po' il discorso di YouTube che non manda i video in feed un po' anche da parte degli iscritti ho visto che non c'è stato un granché di ritorno anche a livello di like quindi ho deciso di non proseguire più e magari vedere se vi porto invece il sabato come serie fissa Crash Royale che per quanto venga etichettato come un gioco da bambini in realtà ragazzi vi posso dire che è una gran figata di gioco ed è molto strategico ovviamente se trovate gente che spende soldi e il deck molto più potente del vostro vabbè ok non c'è partita però se trovate persone che non spendono soldi o che spendono soldi quanto vuoi ecco lì si gioca ad armi pari e la partita può essere più che interessante anche perché come gioco è molto intelligente ed è molto strategico e la cosa vi do di verità mi è piaciuta molto ma davvero molto quindi presumibilmente nei prossimi sabati finirò a portare gameplay di Crash Royale fatemi sapere se l'idea vi piace con un commento o magari lasciando un like sotto a questo video così mi fate capire insomma che vi aggrada questa idea qui nel frattempo come vedete ci stiamo dando battaglia mancano meno di 60 secondi quindi anche questa partita stava agendo al termine qua ho deciso di schierare un gigante per abbattergli la torre quella frontale che avevo preso di mira il mio avversario vedete mi ha schierato anche lui un gigante quindi una partita ragazzi veramente giocata alla pari vedete qui ho provato a buttare anche una bomba contro il suo gigante per cercare appunto di distruggerlo subito e ci sono riuscito qua ragazzi ho abbattuto una sua torre quindi in questo momento sono in vantaggio per uno a zero e poi ho iniziato a cercare di abbattergli la torre principale magari dovevo puntare più sull'altra infatti in questo caso secondo me ho sbagliato ma purtroppo ormai l'avevo messo lì il gigante perché è qui ragazzi vedete mancano 9 secondi e lui grazie a una palla di fuoco è riuscito a distruggermi una delle mie torri quindi andando a finire sull'uno pari quindi ragazzi la partita è proseguita ai tempi supplementari quindi ritornando al discorso del canale vi chiedo la gentilezza di aiutarmi a far conoscere il mio canale condividere i miei video suggerirle agli amici ragazzi perché youtube non manda in feed più un cazzo di nulla youtube ormai è diventato un sistema nel quale va avanti soltanto chi si è già fatto conoscere e chi paga, chi spende soldi perché è l'unico modo ormai che si ha per farsi conoscere su youtube il resto dei canali anche se sono canali fatti bene con giochi carini comunque fatti bene portati bene è difficile che ormai si sviluppino questo è il nuovo mondo di youtube qui comunque ragazzi la partita sta per terminare spero che questa tipologia di video vi è piaciuta se è così fatemelo sapere magari vi porto altri commentari senza webcam come sempre vi invito a lasciare un like commentate condividete mi raccomando se l'avete fatto iscrivetevi al canale qui da AngeloNero83 è tutto ci vediamo al prossimo vlog e ciao gamers iscrivetevi al canale